Ancora nessuna novità sulla fuga in Egitto, il capolavoro di Caravaggio fuggito oggi dalla capitale. Con le nostre telecamere ci siamo recati in via del Corso a Roma, presso il palazzo Doria Panfili, per intervistare la Principessa Gesine in merito alla vicenda. Principessa, Principessa Gesine, una domanda? No commenti. Principessa, il Caravaggio fuggito da Roma appartiene alla vostra collezione, può dirci qualcosa a riguardo? Non abbiamo niente da dire per il momento. Principessa, un'altra domanda?